Ridondanza totale La soluzione di allerta e comunicazione autonoma di Swissphone Nella nostra quotidianità siamo abituati a sistemi di comunicazione costantemente in funzione. Cosa accade però se si verifica un disastro oppure un blackout totale? In un totale stromausfalle, in un'öffentura comunicazione, in un'ordine e in un'ordine e in un'ordine e in un'ordine e ci dobbiamo avere qualcosa che si tratta. Swissphone offre soluzioni di allerta sicure e ridondanti. Per situazioni di blackout prolungate, Swissphone dispone ora di una soluzione di allerta e comunicazione completamente autonoma, con elevata ridondanza e diverse modalità fallback che continuano a funzionare anche dopo un blackout completo. La nostra autarki comunicazione è un'autarki tecnologie di paging unabhängig dall'internet e dall'internet e con l'esplosione di rispettiva come generatore di batteria le stazioni di base autonome comunicano esclusivamente tramite onde radio. In caso di blackout, questo consente agli utenti di allertare l'intera rete, da qualunque luogo, consentendo la comunicazione all'interno della rete stessa. La soluzione Swissphone ha costi di acquisto e di gestione minore rispetto ad altre tecnologie e assicura una garanzia dell'investimento a lungo termine. Inoltre, è completamente indipendente dalle altre reti ed è più affidabile, offrendo una ridondanza totale in situazioni di disastro. La soluzione proposta è comunque ottimale almeno quanto il dispositivo pensato per gli utenti finali. Progettati per professionisti e volontari, i terminali di Swissphone dettano nuovi standard grazie alla maggiore sensibilità del settore, lunga durata di una carica della batteria fino a tre mesi e elevata robustezza, impermeabilità e al potente volume sonoro. Il paging è per noi molto importante perché questo è questo metodo in cui abbiamo credito che funziona. State cercando una soluzione robusta, efficiente, dal punto di vista economico e che vi aiuti a salvare vite nei futuri decenni? Contattateci per saperne di più sulla soluzione di radioavviso autonoma di Swissphone.